Ciao Pasquale! Ciao Cinto, come stai? Sono comodissimo su queste voltroncine. Allora, come mai questo video? Una settimana dell'intelligenza artificiale per te. Ah, questo che cos'è? Un invito? È un invito perché è da un anno che con l'intelligenza artificiale spiegata semplice abbiamo aggregato una community. Pensate, oltre 6.000 ascoltatori che ci seguono ogni settimana con una puntata del podcast. Esatto, quindi dopo il podcast, la community sui social e anche il nostro libro, questo è un invito ad una intera settimana in cui parleremo di intelligenza artificiale. Una settimana online, totalmente online, con webinar dirette su Facebook, nei nostri gruppi, per parlare con gli attori più giusti e i protagonisti che stanno vivendo l'intelligenza artificiale in Italia, che la stanno facendo. Esatto, ma quando? Quando è maggio? Maggio dall'11 al 16 di maggio. Una settimana, sei giorni, quattro ore al giorno di dirette con interviste ai protagonisti delle aziende, delle istituzioni e anche delle start-up. Esatto, quindi se sei un imprenditore, se sei un marketer, uno start-up, però comunque un appassionato di tecnologia, non prendere impegni dall'11 al 16 maggio 2020. Incontreremo tante aziende. Facciamo qualche esempio. Sì, esatto. Tra i nostri speaker avremo Google, Team, ma anche Zucchetti. Tante aziende, ma anche tante start-up, che potranno fornirvi dei suggerimenti riferimenti su come iniziare un progetto di intelligenza artificiale all'interno della tua azienda. Ma se sei un appassionato potrebbe incuriosirti qualche caso d'uso. Vogliamo fare un esempio? Ad esempio abbiamo il Vino che Parla, che è una grandissima applicazione che ti dà la possibilità di abbinare un chatbot ad una bottiglia di vino. E quindi il tuo prodotto che parla tramite uno smart speaker o tramite il tuo telefono, applicazioni che possono davvero cambiare la tua azienda e migliorarla. E allora, Pasquale? Esatto. Quindi partecipando alla settimana dell'intelligenza artificiale avrai la possibilità di conoscere tutti i dati di mercato dell'intelligenza artificiale in Italia. Scenari e quindi applicazioni. Quali sono le aziende? Quali sono le piattaforme migliori che stanno permettendo alle aziende di vincere sul mercato? Esatto. Tool e strategie da parte di grandi colossi come ad esempio Google oppure da parte di start-up fortemente innovative che ti daranno la possibilità di innovare adesso il processo della tua azienda, il progetto della tua azienda o comunque il tuo business. Noi ci mettiamo la forza, l'entusiasmo e la passione ogni giorno. Ora però tocca a te. Esatto. Quindi per partecipare alla settimana dell'intelligenza artificiale vai su AIWig.it Lì c'è una sorpresa per te. Sicuramente ti abbiamo riservato qualcosa di ghiotto di cui approfittarne subito. Non perdere questa opportunità. Ci vediamo lì. Ciao. Ciao.